Ciao ragazzi, benvenuti con le probabili formazioni della partita tra Juventus e Sampdoria. Come vedete il centrocampo ha messo un po' la squadra, un po' la Kaiser, adesso la sistemiamo. Dunque andiamo a cercare di capire come giocherà Mr. Andrea Pirlo questa partita. Allora, sicuramente questo è lo schema in fase di impostazione, che è quello che mi piace di più. Poi vedremo anche la soluzione in fase di difensiva. Allora, dunque i due esterni secondo me saranno Quadrado e Pellegrini, credo che siano le due certezze che Mr. Abbia. Poi vediamo, l'attacco sarà Ronaldo Kulusevski, al 99% sarà questo, visto che non è sbloccata nessuna trattativa per le punte. E notizia di oggi, tra l'altro gioca Pellegrini perché, notizia di ieri scusate, perché Alexandro si è rotto. Starà fuori un mesetto probabilmente. Allora, secondo me la formazione della Juve sarà più o meno questa. Ramsey, che è l'unico centrocampista di inserimento, come potete vedere l'ho messo Mediani. Bentancur e Arthur, poi giustrateli come volete, di qua di là è uguale. E la difesa 3 vede Danilo falso centrale, perché è un centrale aggiuntivo, con Bonucci e Chiellini. Come la vedo questa formazione invece in fase difensiva diventa molto più compatta in fase difensiva. Questa è in fase offensiva, lo ricordiamo, quindi quando costruiamo la manovra, ed è una cosa che a me piace tantissimo. In fase invece di non possesso la formazione diventa così. Diventa un semplice semplice 4-4-2, con praticamente i giocatori che si adattano. È più facile da fare senza videogioco questa cosa qua, perché... Ok, Danilo diventa terzino e diventiamo molto più compatti per servire le punte. Quindi questa è la formazione in fase di difesa, quando difendiamo. Anzi, quando difendiamo, se proviamo a dirla tutta, sarebbe... Ops, ho sbagliato a schiacciare. Kuluseski si va addirittura a difendere in questa zona, in questa linea direi, questa linea verticale del campo. Mentre Ronaldo sta su tranquillo, quindi diventa in fase difensiva quasi un 4-4-1-1, più che un 4-4-2. Insomma, questa è la Juve di Pirlo, che giocherà contro la Sampdoria, secondo me. Chiaramente staremo qua a vedere se c'è qualche novità. Ragazzi, io vi saluto e ovviamente al prossimo video. Ci vediamo qui domani per il post Juve Sampdoria. Ciao a tutti!